Eppur si muove, lo disse qualcuno qualche anno fa, eppur si muove il pallone a spicchi inteso come movimento del basket in gonnella. Fermati tutti i campionati dilettantistici e amatoriali che non abbiano risvolto nazionale, il massimo campionato di Serie 1 femminile prova ad andare avanti, anche se pure qui il Covid si è fatto sentire. Alla undecima partecipazione consecutiva tra le grandi della pallacanestro in rosa, il Gesam Lemura-Lucca ha avuto abbrivio stagionale complicato e difficile, come testimone anche la misera classifica, e questo è perlomeno strano per le biancorosse, ma su questo aspetto ci siamo già soffermati. Intanto questa è la settimana, sono i giorni dedicati alle nazionali e alle qualificazioni ai campionati europei spostati non a caso e per quanto dicevamo sopra al 2022, vorrà pur dire qualcosa. Due le giocatrici del basket Lemura che sono via, il capitano Laura Sperafico con l'Italia e Ivana Jakubkova con la Slovacchia, entrambe giocheranno partite delicatissime in ottica continentale. Le altre continuano invece a lavorare al palatagliate sotto la guida di Cocci Urlaro. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre, calendario cattivo con il Gesam che sarà di scena nella proibitiva trasferta di Schio, poi però va detto che lo stesso calendario si ammorbidirà parecchio. Broni, Battipaglia dove non c'è più Lucchese Peppe Piazza, Vigarano e Recupero con Sassari sono gare abbordabili e lì si dovranno fare i punti necessari per risalire la china. Naturalmente il tutto è ammorbato in un clima irreale dove purtroppo si deve per forza vivere alla giornata.